Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla partita di oggi. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Beppe Bergoglio. Vediamo se le squadre in campo oggi sapranno farci divertire. Il fisco dell'arbitro dà il via alla partita. Yarrat e Sien riesce a liberarsi, ottimazione. Presa sicura del portiere. Silva, Montolivo, Bale. Smalling. Bel passaggio, palla in aria. Colpo di testa che sorvola la traversa. Non si è coordinato bene, ha colpito troppo sotto. Grande occasione sprecata. Podoski, cerca di accelerare. Bojan. L'arbitro non se la sente di estrarre un cartellino. Già battuta la punizione. Bale. Montolivo. Silva. Cross in mezzo. Palla che termina lontanissima dai pali. 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 Raffaele Bojan Super difensori Si fa sotto Ora ci attende un corner Con la testa Palla sul palo Tiro Fuori di poco Podoski Vuole un po' di spazio Bale Silva Pallo laterale Agbo Lahor Parte il cross Intercetta il pallone Tutto da rifare Vice il bastos E sien Bojan Beccan Podoski Buono il controllo Pallone recuperato dal difensore Vi c'è il bastos Vi ha quinta Circa un barco Ronaldinho Si gioca Per rischio dell'arbitro E si riprenderà Con un calcio di punizione Colpisce il pallone di testa Conclusione pericolosa Ma fuori misura Palla in fallo laterale Ma non era certo Il momento di andare Per il sottile Diarrà Valencia Caparbio resta su Nonostante il contrasto Besterman Diarrà Essien Dià quinta Michel Bastos Dià quinta Sanetti Essien Prova a tirare in porta La squadra di casa Si ha portato a uno Il segno delle proprie marcature La piazzata con precisioni Assoluta Con la palla Può fare davvero Tutto quello che vuole Ecco Beckham Podowski Cerca di accelerare Raffaele Si porta lì in avanti Buon possesso palla Michel Montolivo Podowski Passa la palla Raffaele Costruiscono bene l'azione La ricerca di Varchi Cross in mezzo Palla direttamente in out Si sono salvati per un pelo David Beckham È un vero specialista Va lui a battere il calcio d'angolo Testa E sbaglia tutto Palla sul fondo E sbagliare il calcio d'angolo E sbagliare il calcio d'angolo Michele Beckham Vice il Bastos E Sien La mette dentro Efficace l'intervento difensivo Sanetti Agbo Lahor Bojan Lo attacca di lato Silva Bale Smalling Michel Montolivo Offside E possono tirare un sospiro di sollievo in difesa Perché ormai erano tutti fuori causa Pallonetto di precisione verso il compagno Riesce a mantenere il possesso del pallone Grande intervento in chiusura Silva Bojan Ghiarra Sanetti Valencia E la palla finisce fuori Agbo Lahor E sarà ancora rimessa laterale Palla nuovamente interventa In out Bojan Riesce a togliergli la palla La palla termina un'altra volta in fallo laterale Montolivo Smalling Silva Bale E ci sarà la rimessa dell'estremo difensore Michel Perdono palla Montolivo Bale Silva Palla che carambola fuori Palla a lato di nuovo Agbo Agbo Lahor L'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino L'arbitro dice che è giallo C'era da aspettarselo Effettivamente per un'entrata del genere poteva andargli peggio Prova ad andare Ronaldinho E la mette direttamente fuori Interrompe così la pressione degli avversari E sarà corner Podoski L'arbitro concede il vantaggio Ha fatto bene E perdono palla Bravo l'arbitro Che fischia Visto che il vantaggio non si è concretizzato Intercetta la palla Montolivo Cerca spazio Beckham L'allenatore starà sudando freddo Beppe Sì Fabio È un giocatore fondamentale Questo infortunio può essere un serio problema per lui Ia Quinta Palla in fallo laterale Podoski Vuole un po' di spazio Palla che non filtra Montolivo E lo ferma Palla libera Ia Quinta Vice il Bastos Può metterla in mezzo Traversone in aria Sceglie bene il tempo Podoski Buono il controllo Va Beckham Nulla di fatto Il cross è facile Preda del portiere Ia Quinta Ronaldinho Uscita del portiere Che fa solo la palla Gli toglie la palla dei piedi Friedrich Sanetti Vice il Bastos Buono il cross Respinta col pugni del portiere E Sanetti Ferma l'azione Palla al compagno Lo ferma sul più bello Riescono a chiudere E sarà rimessa laterale Attenzione cross in aria Chiude bene Fa su alla palla Vanifica l'azione avversaria Tiro bloccato dall'estremo difensore Ia Quinta Valencia Palla che finisce a lato Bambi del portiere E' un po' di più bello E' un po' di più bello E' un po' di più bello Vice il Bastos Cerca di controllare bene Ronaldinho Ia Quinta L'ha messa in aria Il portiere sulla traiettoria E blocca Ia Ra E Sien Vice il Bastos Cerca un barco Ronaldinho Prova il cross Ia Quinta Posizione giudicata irregolare Dall'assistente dell'arbitro Millimetrico questo fuorigioco Di Arra E Sien Prova ad andare Ronaldinho Friedrich Vice il Bastos Ia Quinta E' un gol Palla in rete Un colpo di testa imparabile Beppe Si potente e preciso E il primo tempo finisce qui Che giocata Comincia ora il secondo tempo Montolivo Serve il compagno con un pallonetto Podoschi Tega è scivolato Sanetti Friedrich Friedrich Vice il Bastos Ronaldinho E Sien Grande intervento difensivo Può allargare subito a sinistra Besterman Agbola Horn Ia Quinta Al volo Hanno segnato di nuovo Ha segnato due reti Dimostrando di essere in grande forma Gli avversari dovrebbero cominciare a marcarlo un po' più stretto Gol a botta sicura Fabio E con questo gol Il loro bottino cresce Montolivo Podoschi Ecco Beckham Riconquistano palla con questo Teckel Palla che esce sarà fallo laterale Michele Sanetti vince il contrasto Rimessa laterale Raffaele Michele Podoschi Cerca di accelerare Silva Non ferma il gioco Sì Ha dato il vantaggio Traversone poco preciso Podoschi Beccano Parte Traversone Intercetta il pallone Tutto da rifare Ia Quinta Valencia Completa il passaggio Palla intercettata Chiusura Buonissima L'azione non può procedere Podoschi Vuole un po' di spazio Silva E solo può andare in porta E alla fine la palla è del difensore Si appresta a battere il calcio d'angolo Ci prova di testa E il colpo di testa finisce fuori Ha colpito troppo sotto Mancando un'ottima occasione Ia Quinta Buon intercetto di Beccan Miquel Bojan 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 Silva E Siena Allora Beppe Quanto pare Quanto pare nemmeno quest'anno Si è stato inserito Tra i giocatori storici Presenti in FIFA E questo mi dà un po' fastidio Fabio Io secondo me me lo meritavo Quest'anno di essere inserito Parlerò con chi di dovere Valencia Calcio di punizione La stacchezza sta per affiorare E questo cambio Serve a dare nuova verba alla squadra Qui vediamo tutta la sua rabbia Per l'occasione mancata La palla è terminata sul fondo Ci sarà una rimessa Entrano in campo due giocatori freschi Vediamo se cambierà l'assetto tattico della squadra Raffaele Cercano una tattica più aggressiva Pallonetto che raggiunge il compagno Vice il Bastos Cerca di controllare bene Ronaldinho E Sien Sanetti Vediamo come batterà questo calcio d'angolo Cerca i compagni Manovra interrotta dagli avversari E Sien Palla al difensore Montolivo Tosic Tosic Michele Tosic Podoski Buono il controllo Non riesce a bloccare Sanetti Si ripartirà con un calcio di punizione E Sien Iacuinta Nessun problema per il portiere Sanetti Sanetti Il compagno si smarca Valencia Cross dal fondo Ottima chiusura Strappano la palla dagli avversari Circa un barco Ronaldinho Palla in area Nulla di fatto Può ripartire il difensore E pronto per la battuta del calcio d'angolo Entrambi gli allenatori decidono di fare delle sostituzioni Tosic Smalling Raffaele Michele Montolivo Podoski Cerca di accelerare Kolarov Accrossato Intervento di pugno del portiere Sviluppano il gioco Posizione buona per il traversone La mette dentro Bel cross Ma il portiere non si fa sorprendere Michele Tosic Podoski Vuole un po' di spazio Il portiere a lontano di pugno Cross interrotto E sfuma l'azione Tresegui Litiga con la palla E la trascina oltre la linea dell'out E sarà fallo laterale Palla in gioco Michele Tosic Passaggio troppo prevedibile Verone Valencia Palla dentro Grande chiusura difensiva Efficace l'intervento difensivo E si gioca per il vantaggio Cerca nel cross Traversone Intervengono con tempismo Spazzata classica Tosic Michele Raffaele Montolivo Buono il cross Interrompe l'azione avversaria Iacuinta E Sien Allontana la palla con un pugno Conquista la palla Kolarov Valencia Azione interrotta Friedrich Rilancio lungo Berbatov Podoski Buono il controllo E la palla rimbalza sul palo Ancora fondamentale l'intervento del portiere Vice il Bastos Tosic Podoski Passaggio completamente sballato Rimessa per gli avversari Palla fuori Rimessa laterale Iacuinta Si organizzano per essere più coperti Il quarto uomo esibisce il tabellone luminoso Che indica due minuti di recupero Riesce a liberarsi Ottima azione Mantiene il possesso di palla Nonostante il contrasto Si prepara a battere l'angolo Berbatov Verón Vice il Bastos Ed è calcio di punizione Brutta entrata Viene giustamente ammonito Si Decisione giusta dell'arbitro In questo caso Vescien Vescien Riesce a fermare l'azione Treseguet Alla ricerca di uno spazio Valencia Sanetti Si porta in avanti Buon possesso palla Palla respinta Da un difensore Tiro impreviso L'arbitro Fischia Alla fine dell'incontro 3 a 0 Il risultato finale E qui finisce Una partita Letteralmente dominata Dalla squadra vincente Si hanno dimostrato Una superità netta Addirittura imbarazzante La loro vittoria Non è